Feci l'inviato del giornale radio entrando in Rai e poi dal giornale radio passai al primo telegiornale che diressi. Poi mi cacciarono perché Tambroni, che non mi amava ovviamente, disse che ero comunista e in consiglio dei ministri strappò a segni l'assenso di farmi cacciare. Moro si indignò e telefonò all'amministratore delegato che si chiamava Rodinò. Allora mi fecero condirettore della radio, mi raddoppiarono lo stipendio, mi mandarono in America a mettere sulla Rai Corporation. Non sono una vittima di regime.